Mi chiamo Adam Lov e sono qui a Bologna per parlare del lavoro che abbiamo svolto per l'architetto Roberto Terra, una scansione delle statue di Jacopo della Quercia sulla facciata di San Petronio. Fattumarte è un laboratorio che ha sede a Madrid, specializzato nella documentazione in alta risoluzione e nella produzione di copie esatte per una politica volta alla conservazione e alla miglior comprensione di importanti opere d'arte. Una gran parte del nostro lavoro è promuovere l'uso del facsimile in modo da trasformare i grandi numeri di turisti in una forza che aiuti a proteggere le importanti opere del patrimonio culturale, invece che essere in parte responsabili della loro distruzione. Il lavoro che abbiamo svolto sulla facciata di San Petronio è stato più che altro una indagine e prova per vedere se l'attrezzatura di cui siamo dotati è davvero in grado di compiere una rilevazione delle sculture di Jacopo della Quercia con una risoluzione che forse è significativa per comprendere le condizioni in cui si trovano e per studiarle meglio. Spero che nei prossimi mesi avremo la possibilità di tornare e registrare tutte le sculture di Jacopo della Quercia che si trovano sul portale principale di San Petronio. Grazie a tutti i nostri spettatori